buona giornata a tutti e benvenuti alla terza puntata di dalla parte degli animali il nostro meraviglioso viaggio per i canili e per i rifugi di tutta italia alla scoperta di tanti piccoli amici non solo cani e gatti ma anche altri animali che cercano una nuova opportunità che sono in attesa di una famiglia che voglia donare loro tanto amore come sicuramente hanno diritto insomma comincia un nuovo viaggio dalla parte degli animali wow michela oggi andremo a bracciano in una casa di riposo molto speciale poi incontreremo la marchesa più famosa d'italia aderetissima vedremo le prudezze dei quattro zampe dei vigili del fuoco sentiremo la storia del cane alfio e di consigli del nostro grande veterinario e poi una coppia davvero spumeggiante e tanti tanti teneri amici da adottare vedi quanti sono i due ragazzi che finalmente abbracceranno due cuccioli da portare a casa buon natale dalla parte degli animali a casa buon natale